Cari amici, buongiorno. Concerto piacevolissimo oggi qui a Palazzo Chigi Saracini in Siena, grazie ad Angelo Persichilli, primo flauto solista dell'orchestra di Santa Cecilia in Roma, e grazie anche al pianista americano, ma residente in Germania, a Monaco di Baviera, Donald Sulzen. Angelo Persichilli, come mai un pianista straniero? Come mai questa scelta? Io credo che ci sia un elemento non polemico, ma interessante da mettere a fuoco. Sì, giustamente. Comunque volevo dire che è già una fortuna trovare un pianista con cui fare musica da camera, perché è molto difficile, è un incontro che a volte passa anche una vita senza che si trova il partner giusto. Comunque volevo anche dire che in Italia ci sono indubbiamente dei pianisti che fanno bene la musica da camera, però è un fatto un pochino più raro che i pianisti facciano volentieri musica da camera. Io ci devo anche ringraziare perché dopo una mia richiesta ben precisa, tu hai saputo scegliere un programma per molti, per tanti, forse per tutti, musica per tutti, non quindi dei brani riservati a pochi cultori. I tuoi brani sono stati deliziosissimi. Spiegami questa Carmen, per esempio, che soddisfazioni dà al flautista? Naturalmente noi siamo abituati ad ascoltarla in teatro. Tu ti senti un attore, un cantante, un direttore d'orchestra? Che cosa facendo questa Carmen? Ecco sì, di volta in volta mi sento un pochino tutto, il soprano, il tenore, il direttore, cerco di trasmettere le emozioni che provano questi artisti, cerco di renderla col flauto. Sì, è stata veramente una lezione di teatralità, oltre che di musicalità. Ti ringrazio ancora, voglio ringraziare moltissimo il pianista Donald Sulzen, cari amici arrivederci alla prossima voglia di musica.